Bentornati in una nuova guida all'acquisto aggiornata, questa volta dedicata alle sedie da gaming. I prodotti che vi mostrerò ora non sono il frutto di una mia opinione personale, bensì raggruppo quelli che sono tutti i consigli delle varie guide all'acquisto presenti sulla web. Quindi tendenzialmente quello che faccio è raggruppare i prodotti più consigliati per permetterti di appunto scegliere in una selezione chi usa dei migliori prodotti e facilitare la tua decisione d'acquisto. Troverete qui sotto in descrizione la lista di tutti i modelli a cui però comunque è ampio aggiungendo anche delle mie personali consigli che lascio in coda, quindi comunque una selezione dei top prodotti. Non perdo altro tempo e quindi andiamo a vedere quali sono le sedie da gaming più consigliate sul web. Una delle migliori sedie da gaming che possiate acquistare è la Secret Lab Omega. Non è tra le più costose ma neanche tra le più economiche ed è sicuramente apprezzabile per le sue caratteristiche. Io ne ho due di queste sedie, tanto per farvi intendere perché proprio mi piace veramente. Il fatto è che ha tutte le caratteristiche di una sedia da gaming, quindi tutte le varie regolazioni, tutti i vari supporti, in un design che secondo me è uno dei migliori design perché non è estremizzato, quindi in un certo qual senso sia sportiveggiante da gaming ma anche elegante. Il resto dei parametri come la qualità dei materiali, la costruzione delle caratteristiche, la posiziona nella fascia medio alta del mercato. Ancora una volta, come capita spesso in realtà in queste guide, il primo prodotto che presento, forse il più consigliato poi sul web, è il prodotto sicuro, cioè se non volete star lì a vedere tutti i dettagli dei singoli modelli e volete avere la certezza di investire bene i vostri soldi e acquistare una delle migliori sedie gaming sul mercato, prendete questa. Saliamo di prezzo e di livello, ma nemmeno molto in realtà. La Secret Lab, sempre male il modello Titan, è per coloro che sono, come dire, un po' sopra le misure medie, quindi sono più alti o non sono propriamente mingerlini. Ha tutte le caratteristiche viste nell'Omega e in più offre anche un supporto lombare integrato direttamente all'interno della sedia che si può fare estendere o ritrarre con una manopola nella parte dello schienale. Non sto dicendo che è enorme, ma è un po' più grossa e sì, io ho anche questa. La vedete nei alcuni miei video e quella che uso principalmente, io sono un metro e 75, poco più, non sono enorme, però la seduta è un pochettino più grande e la rende più comoda, quindi in realtà è adatta a tutti, soprattutto a chi vuole un supporto lombare direttamente integrato nello schienale. Quindi se volete una sedia completa o comunque siete alti e non mingerlini, optate per una Titan. E indovinate un po', e ho preso anche questa sedia, la Razer Iskur, ma l'ho presa perché ha una caratteristica molto speciale, l'unica sedia che ha questa caratteristica. E sto parlando praticamente di un supporto lombare, però esterno, estendibile e attivabile tramite un apposito comando. In poche parole la sedia è perfetta se magari non siete sempre appoggiati allo schienale, magari vi trovate anche a metà seduta e volete ugualmente un supporto lombare. Quindi prendetela appunto se volete un ottimo supporto dalla parte bassa della schiena e vi trovate magari seduti in posizioni un po' strane, come direi sentite un po' la mancanza di un buon supporto. Nobel Cere è uno dei marchi più attivi di questo settore, ha un sacco di sedie a catalogo e non poteva mancare almeno un modello tra i più consigliati. Si parla del modello Icon e probabilmente più consigliato perché è quella col design meno spinto. In realtà è anche una delle più economiche della linea Nobel Cere, perché comunque costa più di tutti gli altri che abbiamo visto fino ad ora. Il mio consiglio è di optare per questa sedia se state cercando una seduta importante anche dal punto di vista, come dire, estetico, di qualità dei materiali. Magari non state cercando una sedia da gaming propria per la sua definizione, ma anche una bella sedia di rappresentanza, perché comunque proprio è bella, imponente, è ben fatta e starà bene anche in qualsiasi altro ufficio. Se invece volete una bella sedia, però in tessuto, non volete spendere tantissimo come per gli altri modelli, comunque avete un budget decente, prendete una Corsair T3 Rush. Racchiude tutte le caratteristiche più importanti delle sedi da gaming, però in un ottimo rapporto tra prezzo e caratteristiche. Non è cheap, quindi non è super economica, ma non costa neanche un botto e non si fa mancare niente. Il design in questo caso è prettamente gaming, sportivo, motoristico, oserei dire, e quindi ovviamente vi deve piacere questo tipo di design. Queste, amici, sono le sedie da gaming più consigliate e in realtà penso che possono già soddisfare molte necessità di moltissimi utenti. Come detto, io qui sotto vi aggiungo anche qualche altro modello tra cui scegliere. Quindi il consiglio finale è proprio questo. State cercando una nuova sedia da gaming, evitate di star lì a guardare tutti i singoli modelli delle decine, decine, decine che ci sono e scegliete tra questa selezione che vi ho fatto, che comunque cadrete sul sicuro perché sono tutti ottimi modelli. Non ci sono modelli super economici, questo non era il video della guida all'acquisto della sedia alla gaming economica, farò anche quello in futuro. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un altro video. Ciao! Ciao!